Ciao, in questo video ti voglio mostrare due nuove funzioni introdotte nell'ultima versione beta di Elementor Pro e si tratta in particolare del multi-step form, ossia la possibilità di creare form in più step, in più passaggi e un'altra, quella che riguarda le animazioni lotti, ossia la possibilità di inserire file relativi da animazioni all'interno delle pagine di contenuti che vai a creare con Elementor. Faccio prima di tutto una precisazione, si tratta di una versione beta, quindi di una versione destinata agli sviluppatori o alle persone che vogliono provare in anteprima alcune funzionalità. Ti sconsiglio però nel modo più assoluto di installare versioni beta di Elementor come anche di altri plugin o temi sul tuo sito in produzione, ossia sul sito che è visibile a tutti, appunto perché le versioni beta sono destinate a una fase di test per verificare se questa versione genera conflitti con altri plugin o altri tipi di problemi. Quindi, lo ripeto, evita di installarlo sul tuo sito se il tuo sito è pubblico e visibile a tutti. Altra precisazione, visto che a volte nei commenti c'è sempre qualcuno che poi chiede ma quello che hai fatto vedere è relativo a Elementor gratuito o Pro, lo sottolino per una maggiore chiarezza, le due funzionalità che ti mostrerò in questo video sono relative ad Elementor Pro, ossia la versione a pagamento di Elementor. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta partendo dalle animazioni lotti. Senza scendere troppo nei dettagli tecnici, le animazioni lotti non sono nient'altro che dei file JSON generati a partire da animazioni create con un programma chiamato Adobe After Effects. Un programma solitamente utilizzato per creare i cosiddetti visual effects all'interno dei video. Quindi in questo programma è possibile creare animazioni che una volta convertiti in file JSON oppure a delle GIF animate è il fatto che pesano molto molto meno e soprattutto sono vettoriali, quindi estremamente nitide a qualunque risoluzione. Vediamo semplicemente come utilizzarle. Entrò in modifica con Elementor per questa pagina e vedi che qua ho inserito quattro widget, uno, due, tre e quattro. In ognuno di essi ho inserito un URL relativo a un file lotti. Quindi qua all'interno della sezione Elementor, nella categoria Pro, in fondo è presente un nuovo widget chiamato lotti, pensato appunto per queste animazioni. Quindi supponiamo adesso di cancellare questo e di andare a inserire un nuovo widget lotti, lo trascino qua e adesso è presente la demo, ma io adesso posso andare a inserire la mia animazione. Ma dove trovo queste benedette animazioni lotti? Le trovo qua su questo sito che si chiama lottifiles.com. Io qua posso cercare, posso consultare ad esempio le più popolari e cercare quella che mi piace di più. Ti sottolino che su questo sito molte sono gratuite, altre sono a pagamento, altre sono vendute in pacchetti di più icone, di più immagini fondamentalmente. Quindi si tratta di trovare quella che desideri. Supponiamo di voler utilizzare questa. Ci basta cliccare. viene aperta in anteprima, a me basta scaricarla. Per scaricarla è necessario prima fare login sul sito, quindi creare un account. Io in questo caso l'ho già creato, quindi clicco download e scarico il formato lotti.json. Una volta scaricato posso tornare qua sulla mia pagina Elementor e quando mi chiede upload.json file basta cliccare quest'icona e andare a caricare il file json appena scaricato. Quindi lo trovo qua nella sezione download eccolo qua inserisci media ed ecco che viene caricata l'animazione. Adesso è enorme però mi basta andare in stile e posso scegliere anche la dimensione di questa animazione perché essendo vettoriale posso ingrandirla o rimpicciolirla come desidero senza perdere in nitidezza. Vedi che anche ingrandendola al massimo non sgrana perché è un file fondamentalmente vettoriale. Quindi supponiamo 400 pixel io posso fare altri interventi alcuni tra i più interessanti sono ad esempio quelli che mi permettono di decidere come animare questa animazione. Quindi posso decidere che l'animazione parte quando l'immagine entra nel viewport quindi quando inizia a essere visualizzata oppure decidere che l'animazione parte al click in questo caso se io clicco parte oppure sull'over se quando ci vado sopra col mouse parte oppure allo scroll. Supponiamo di lasciare il viewport per comodità posso fare anche variazioni per definire la parte di viewport che va a attivare l'animazione se mandarla in loop oppure no quante volte mandarla in loop la velocità di riproduzione se animarla in senso contrario se impostare un punto di avvio dell'animazione oppure no e se come rendere usare l'elemento svg o il canvas per semplicità va bene svg nella maggior parte dei casi. Clicchiamo su aggiorna andiamo a vedere l'anteprima ed ecco che oltre alle tre animazioni già inserite in precedenza ora abbiamo anche questa nuova. Quindi le animazioni lotti sono sicuramente un nuovo elemento interessante da aggiungere alle nostre pagine da usare soprattutto con un po' di parsimonia cioè evitate di creare magari pagine con 50 animazioni al loro interno. Chiudiamo pure questa finestra e passiamo a vedere i form multi-step un'altra novità questa davvero molto molto interessante introdotta in questa versione beta di Elementor Pro. Anche qua vado in modifica con Elementor così vediamo meglio come è strutturata questa form che ho appena creato. Come puoi vedere si utilizza sempre il widget modulo quindi non c'è un widget nuovo per questi form multi-step ma si utilizza sempre il widget modulo che però ha introdotto un nuovo elemento quindi io se vado a fare aggiunge elemento vedo che oltre a testo, email, eccetera, eccetera i vari soliti è anche presente un nuovo elemento chiamato step quindi a me basta inserire un elemento step eccolo qua al termine dei primi campi per introdurre un punto di rottura che permette di creare appunto il form su più step prima di procedere oltre però ti voglio mostrare un'anteprima del risultato così è più chiaro il significato di questi moduli multi-step quindi clicco su aggiorna vado in anteprima ed ecco qua il nostro form io vado ad inserire il nome il cognome un indirizzo email e successivo vedi che vengo passato allo step numero 2 nel quale inserisco il numero di telefono faccio un'altra selezione e qua posso cliccare su precedente e tornare indietro o premere successivo e andare avanti qua inserisco il sito qua inserisco il messaggio qua volendo posso mettere un altro campo se voglio lo metto altrimenti no clicco invia e il modulo è stato inviato il primo vantaggio di moduli di questo tipo è quello di ridurre il carico cognitivo dei nostri utenti dei nostri visitatori in quanto anziché presentare loro un modulo lunghissimo con 10-15 campi tutti in una volta in questo modo suddividiamo il lavoro su più step rendendo più semplice più fruibile occupando meno spazio e mostrando poche informazioni alla volta rendendo magari anche un po' più piacevole tutta la compilazione del modulo è chiaro poi se noi creiamo due campi per 18 step il modulo rimane comunque complesso da compilare è abbastanza noioso però diciamo usato con parsimonia ed usando i campi per ogni step è possibile rendere più piacevole la compilazione di un modulo quindi questo è permesso da questa funzione beta di Elementor Pro tornando un attimo quando la modifica ti mostro anche che a livello di stile è possibile personalizzare anche i colori del pulsante successivo e precedente insieme a quello di invio diciamo del modulo è possibile anche personalizzare questi pallini relativi ai vari step quindi è possibile definire anche vedi anche la linea divisoria il gap tra i vari elementi e anche il colore puoi anche definire il colore del singolo elemento quello inattivo quello attivo e quello completato quindi le opzioni di personalizzazione ne sono nel classico stile Elementor abbastanza numerose per rendere comunque anche graficamente più accattivante questa nuova tipologia di modulo come sempre spero che abbia trovato utile questo video e ti consiglio di iscriverti a questo canale e attivare le notifiche per non perdere i prossimi aggiornamenti a questo canale Grazie a tutti